Quello che doveva essere un procedimento naturale, le amministrazioni comunali che si sono susseguite nel tempo nella città di Agropoli lo hanno trasformato in una mostruosità. Così il consigliere di opposizione, Natalino Consolato Caccamo, interviene sulle azioni intraprese in questi ultimi giorni dal sindaco della città di Agropoli, Adamo Coppola, per risolvere il problema della posidonia spiaggiata. Caccamo resta scettico sul da farsi e in discussione al Senato, dichiara, il decreto che discuterà dell'affondamento a mare della posidonia spiaggiata e non basta, ci vorranno dei decreti attuativi. Sì, ben venga finalmente, Dio grazie che finalmente ci siamo svegliati su questa tematica. Rimango scettico sul fatto che chi abbia poi commesso l'azione dell'accumulo oggi possa essere salvifico nella sua esoluzione, detto proprio francamente. Però rimango speranzoso, nonostante le tante perplessità anche normative a riguardo. È una tematica molto nuova, ricordo a tutti che è in discussione al Senato il decreto che probabilmente preventerà l'affondamento a mare anche della posidonia. Non basta chiaramente la norma, ci vorranno dei decreti attuativi che trasformeranno il principio di indirizzo politico in una norma applicabile. Mi spiego meglio perché se no sembra che parliamo politichese non ci capiamo. Allora, affondamento della posidonia dove? A largo di Castellabate? Fuori Salerno? Nel porto di, non lo so, facciamo un porto a Capaccio e la buttiamo là? O non lo so, facciamo a scambio, quelli di Capaccio ce la portano qua, visto questa amicizia, e noi gliela portiamo là? Allora, queste cose che potrebbero sembrare battute hanno un'importanza molto rilevante, specialmente a mare dove ci sono correnti molto forti, che possono rompere gli eventuali imballi e riposizionare la posidonia, magari lì da dove è venuto. Quindi, al di là dell'ironia, è una tematica molto importante. Quando si gioca con la natura bisogna prestare il massimo rispetto. È stato fatto uno scempio nel corso degli anni, ripetrato, ripetrato. Quello che doveva essere un semplice e banale procedimento naturale, noi lo abbiamo trasformato in una mostruosità, sia alla Marina, sia alla spiaggetta dell'Ido Azzurro. Poi rilancia con il progetto proposto nel programma elettorale, la Marina Verde. Mi piace fare politica sempre con delle proposte, e qua richiamo il nostro programma elettorale. Noi proponemmo la Marina Verde, una soluzione sostenibile, anche per porre rimedio al danno dal loro fatto, senza bisogno di nuove leggi, senza bisogno di fasciarsi troppo la testa e riutilizzare utilmente, in loco, quella a banco, uno per recuperare la sabbia, perché noi, quella a banco, probabilmente avremo un 70, 80, anche 80% di sabbia, perché il materiale organico si sarà degradato. Quindi riutilizziamo la sabbia per fare ripascimento anche di altri litorali. Poi quel materiale di supero organico, li utilizziamo per fare un substrato organico ammendante, per un tappeto verde. Un tappeto verde che trasformerebbe, l'attuale, certo dovremmo un po' rinunciare al concetto di spiaggia arenaria, e trasformarla in un'area verde, utilizzabile 365 giorni l'anno, d'estate soprattutto per gli sport estivi, per gli sport marini e acquatici, il polo, la canoa e tanti altri, ma anche d'inverno, laddove si possono fare attività, ad esempio il carnevale in spiaggia, un'area verde attrezzata, pulita, non come adesso, andiamo a vedere in alcune aree addirittura ci sono proprio dei secchi degli immondizi ancora là, utilizzabile da giovani, vecchi, bambini per stare lì e passare il tempo libero in massima serenità.